Prima di iniziare il video, ti ricordo di iscriverti e di attivare la campanella per ricevere le ultime notizie. Grazie. Un considerevole lasso di tempo è trascorso da quando la gioia si è ecclissata dal volto dei familiari, poiché la loro piccola è improvvisamente sparita. Questa situazione ha inflitto un dolore indicibile alla famiglia nel corso di questi giorni tristi. Tuttavia, grazie alla collaborazione e all'energia profusa dai carabinieri e le altre forze coinvolte, possiamo finalmente annunciare con sollievo che la bimba è stata ritrovata. E non solo, è viva e in buona salute. Si tratta infatti di Benedetta Cristofani, la ragazza scomparsa a Tarquinia, è stata finalmente ritrovata. La dodicenne, che non si aveva più notizie da venerdì scorso, è stata individuata a Roma e attualmente si trova presso la stazione dei carabinieri Cecchignola. Il padre, Roberto, ha confermato la buona notizia dichiarando all'ADN Kronos, questa volta è vero. Mia figlia è stata ritrovata e portata alla stazione dei carabinieri della Cecchignola. La scomparsa aveva innescato l'allarme nei giorni scorsi, quando il padre, Roberto Cristofani, aveva lanciato l'appello. Egli aveva spiegato che Benedetta era stata temporaneamente ospitata in una struttura a via della Pisana due sabati fa, con l'intenzione di tornare a occuparsi di lei una volta risolte alcune questioni personali. Tuttavia, successivamente, la ragazza e gli altri ospiti erano stati trasferiti a Tarquinia per trascorrere un periodo al mare. Roberto Cristofani aveva segnalato che venerdì scorso gli era stato comunicato che Benedetta non si trovava più nella struttura. Lui aveva cercato di mettersi in contatto con i carabinieri di Tarquinia, divulgando appelli attraverso i social media. Tuttavia, non aveva ancora ottenuto informazioni dettagliate sulla scomparsa. Il cellulare di Benedetta era nelle mani degli investigatori, il che avrebbe permesso di tracciare le ultime chiamate e i messaggi scambiati da sua figlia.